Raga, vi ricordate di lui? Se non ve lo ricordate, fate swipe up e vi andate a vedere il video. Ho intenzione di fare un video dedicato tutto al tartarughino, con la stessa modalità dei sondaggi delle 24 ore. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, che non è una parodia reaction, ma bensì un video in cui vi devo presentare uno youtuber emergente. Ho fatto un Instagram Stories e avete votato di sì. Ok, quindi adesso dovrò fare il video insieme a questo youtuber emergente. Bene, ora vi presento Alvin lo scarafaggino. Praticamente è qui. Ma non è uno scarafaggio, è una tartaruga. È una tartaruga, eh. Una tartaruga, eh. Però sembra uno scarafaggio. Guarda come si muove, come si muove, come uno scarafaggio. Tutti i miei link in descrizione, come sempre. Tempestate di like questo video. Il mio Instagram ve lo tralascio consentemente qui. Mi raccomando, andatemi tutti a stalkerare anche su Instagram. E voi non lo sapete, ma Alvin lo scarafaggino? Il tartarughino. Alvin il tartarughino ha anche un canale YouTube e un profilo Instagram. Che cacchio siamo arrivati? Perché hai fatto anche un profilo Instagram. Riusci, è il canale YouTube. Comunque, ah, il canale YouTube e un profilo Instagram che vi lascio in descrizione. Adesso farò alcune storie nel mio profilo Instagram. Voi voterete e io farò quello che dite voi. Lo farò insieme a lui. Inquadralo, ok. Si è messa all'impiedi. Ma tu stai anche in piedi? Raga, oggi sto registrando il video con Alvin il tartarughino. Eccolo qua. Saluta. Mi ha lavato la faccia. Comunque vi lascio il sondaggio. Volete o non volete che io gli faccio la doccia. Votate. Two hours later. Raga, ma quanto cacchio è tartaruga Alvin, eh? Sei tanto tartaruga. Ma schiaccio. È un tartarugo ma schiaccio. A volte gli parte una pisciatina difensiva, no? Quando tu lo prendi in braccio e lui si annoia a essere tenuto in braccio o in mano, gli parte la pisciatina difensiva. Sappi che sta vincendo il sì, quindi vuol dire che ti dovrò fare la doccia. Seventi anni dopo. Ok raga, ha vinto il sì, quindi devo prendere Alvin e andare a farci la doccia. Che dici? Mi raccomando non fare la pisciatina difensiva, eh? Mi raccomando. Raga, siamo pronti per andare a fare la doccia ad Alvin. Ok, immergiamoci in acqua. Lo sto lavando delicatamente e molto sensualmente. Oh, you touch my ta-la-la. Mmm, my ding-ding-dong. Ti piace? Lo sto bagnando tutto. Ok raga, adesso lo poggiamo delicatamente un attimo dentro il lavandino e lo andiamo piano piano a strofinare con il suo spazzolino personale. Con questo gli strofineremo l'uccello. Con questo spazzolino qui ti strofinerò l'uccello, lo sai? Lo so che sei impaziente. E ti strofino piano piano. E la doccina te l'ho fatta. Adesso passiamo al prossimo sondaggio. Che dici? Passiamo al prossimo sondaggio? Sì. Dai, passiamo al prossimo sondaggio. Ok raga, la doccia già l'ho fatta. Adesso volete o non volete che do un bacio ad Alvin il tartarughino? Un bacio in bocca ovviamente. Vi metto il sondaggio, votate e ci vediamo dopo. Che poi raga, io sinceramente spero che votiate no. Perché a dargli un bacio in bocca non è per male, non è perché è un animale. Perché glielo darei un bacio in bocca. Il fatto è che è maschio e non mi piace. Ma quanto cacchio siamo sbrex, bitch. Cioè io ti giuro che se tu eri femmina, io il bacio in bocca te lo davo volentieri. Il fatto è che è maschio. Che poi raga, io dico una cosa, ok? Va bene la doccia, va bene qualsiasi altra cosa che una persona può fare con una tartaruga. Ma da dove cacchio mi viene in mente a me il bacio? In bocca per giunta. E sta vincendo pure il sì, eh? Sta vincendo il sì. La prima volta mi è andata bene, vi metto il link del video in descrizione. Ma stavolta se mi va male mi dà un morso che mi stacca il labbro. Porca miseria, porca miseria. Raga sta vincendo il sì e sono abbastanza preoccupato. Perché il morso di una tartaruga poi in una parte così delicata come il labbro, te lo stacca direttamente, eh? A few moments later. Io non te lo vorrebbe dare il bacio in bocca. Che maschio, raga, che maschio. Come faccio a dare il bacio in bocca? Ormai glielo devi dare. E se mi dà un morso nel labbro? Pazienza. Vedi veramente? Mi dà un morso. Mi tengo la bocca chiusa? È incazzato. E appunto, per quello ho paura che mi dà un morso. Che te? C'è te, c'è te, ui c'è Two thousand years later Uno scaravaggio, uno scaravaggio Mi sto cominciando ad innamorare Però ora mi vado a lavare, perché veramente Mi vado a lavare, è meglio Esagerato, addirittura ti lavi subito Sì, ma perché non gliel'ho dato uno Gliel'ho dato più di uno, capisci? Quindi uno andava bene, già con due Ti comincia a prendere le malattie, capito? Però secondo me ti è piaciuto Guarda, ti posso dire che al terzo Ci ho cominciato a prendere il busto Però è giusto anche che mi lavo Perché mi devo anche prevenire La prevenzione è meglio del prevenire Ma che dici? La prevenzione è meglio del prevenire Ti vuoi lavare i denti con lo spazzolino di Alvin? Rinuncio, grazie Sì, ma la cosa bella è che mi dovrei lavare anche la maglietta e il cappello adesso Vedi che Alvin è pulito Sì, soprattutto dopo aver cagato Aver cagato in quell'acqua Tra l'altro gliel'hai cambiata l'acqua? No Glielo sapevo Ok raga, ultimo sondaggio Mi raccomando eh Gli do da mangiare o lo faccio camminare per terra? Votate e ci vediamo dopo Sta picchiando Mi picchia Mi picchia Mi picchia Minchia ma sta graffi Oh mi graffi Che stronzo sei Ti hai fatto male stronzetto Mi spingi, mi spingi eh Vuoi fare naso contro naso? Vuoi combattere naso contro naso? Ok raga, ha vinto mangiare Ma siccome questo signorino mangia solo in acqua Dobbiamo metterlo in acqua e dargli da mangiare Andiamo Mi picchia 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 Epilogue Ragazzi questo video finisce qui E mi raccomando in descrizione trovate tutti i miei link Tempestate di like questo video come sempre E mi raccomando mettete mi piace, commentate Soprattutto condividete Ciao ciao Soprattutto condividete Ciao